Ciao a tutti ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Oggi parleremo dello sciroppo ad agave. Come avevo promesso ho pensato di fare alcuni video su questi prodotti naturali che vanno molto di moda adesso. Mi sono documentata per vari giorni, ho letto straletto su internet, ho preso informazioni di qua e di là e mi sono fatta un piccolo foglietto per ogni tanto se mi vedete guardare in giù e perché mi sono presa degli appunti perché ci sono cose importanti che vi voglio dire di questo prodotto e non voglio dimenticarmi. Allora da cosa è nata la storia dello sciroppo ad agave? Allora è nato da un canale di una mia iscritta dove avevo visto una ricetta che mi interessava per fare delle specie di barrette di muesli e all'interno di queste barrette c'era lo scirocco ad agave, diciamo come densante per riuscirlo a tenere insieme queste barrette di cereali e quindi l'ho acquistato. Io ne ho preso uno a caso e premetto adesso ve lo faccio vedere, è dell'equilibria, dopo vi dico anche perché è uno a caso, è dell'equilibria puro al 100% scirocco ad agave, la dolcezza alternativa. Dico uno a caso perché dopo essermi documentata su questi sciroppi sarebbe stato meglio prenderne uno spremuto freddo e con certe altre caratteristiche poi vi dirò comunque ormai l'ho preso, questo lo utilizzerò e poi vedrò se il prossimo lo io requisterò, solamente se troverò quello con i requisiti che vi dirò qui, poi adesso capirete il perché. Spero che nei prossimi video se vi può interessare, ve l'avevo già accennato tempo fa, ho mezzo pronto anche un video sull'olio di palma, ma dato che si sta molto, posso dire, ogni giorno ne è stata fare una su questo sciroppo, scusate, su questo olio di palma, stanno prendendo anche delle decisioni a livello ultracomunitario e anche i supermercati ho visto che stanno facendo delle scelte particolari, stiamo aspettando un attimo per vedere se queste scelte vanno in porto, per parlarne in un modo un po' più approfondito, comunque quando le cianze sono stiamo qui 3 ore, vi spiego. Allora, innanzitutto lo sciroppo d'agave è un dolcificante naturale, perché viene utilizzato questo sciroppo? Perché ha la particolarità di non cambiare il sapore alle pietanze, è uno sciroppo che si trova nei normali negozi specializzati in prodotti biologici, ma anche nei grandi supermercati, tipo se andate in un hypercop, comunque l'ho trovata, io ho trovato questo della marca, come vi dicevo, Equilibra, ma ce ne sono varie altre marche, le trovate anche nelle erboristerie prese in vendita. I nutrizionisti, vediamo se fa bene o fa male, questo video vi daranno in fare natura su quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi, poi lascio a voi la sentenza del in o out, nel senso di decidere che cosa fare, se acquistarlo o no, se vi piace o no. Io da parte mia vi posso dire che non lo promuovo, non lo boccio, l'ho acquistato, lo utilizzerò, questo flacone che è da 350 grammi e per fare delle ricette, poi ve ne posterò anche uno dei biscotti molto buoni che sembrano buoni, che ho trovato online e se lo riacquisterò non sarà di certo questo, ma lo comprerò con le caratteristiche che dopo vi dico. Comunque, vi stavo dicendo che i nutrizionisti non lo vedono di buon occhio, perché? Allora, innanzitutto sappiamo che sicuramente nella vita di tutti i giorni dobbiamo cercare di consumare il bene possibile lo zucchero, ci sono dei paesi tipo l'Olanda addirittura che hanno pensato di, vorrebbero attassarlo, voi se fosse una sostanza, una droga diciamo, lo paragonano a una droga, perché crea dipendenza, dopo, vabbè, lo zucchero, per intendo naturalmente lo zucchero raffinato, cioè lo zucchero da barbietola, lo zucchero bianco, insomma, per intenderci, bisognerebbe cercare di buttarsi su altre alternative tipo lo stevia, lo succo d'acero, il malto di riso, il malto d'orzo, il miele stesso, in base poi a ognuno di noi, alle proprie, le proprie idee, proprie problemi di salute, perché anche questi che vi dicevo, comunque vanno bene per certe persone, vanno male per altre, insomma, ognuno deve fare le proprie valutazioni personali, comunque, torniamo a noi, il discorso che, perché i nutrizionisti lo vedono di buon occhio, allora, per estrarre questo sciroppo d'agave, praticamente, se hai bisogno di portare, di portare il tutto ad alte temperature, queste alte temperature cambiano gli zuccheri presenti nella pianta e fanno perdere alla sostanza, a questo sciroppo, la maggior parte dei minerali, vitamine che naturalmente conterrebbero, cioè, questo sciroppo è ricco di vitamine, di minerali, però, con le alte temperature che servono per trasformarlo in questo, per intenderci, tutto ciò scompare, ecco, perché questo prodotto non è, non è sempre ben visto, comunque, in linea di massima, se lo vogliamo provare, o se ci interessa, anche solo sapere di che cosa parliamo, si tratta di un prodotto, di un dolcificante naturale, ha un alto potere dolcolante, cioè, maggiore di quello dello zucchero e quindi ne permette un utilizzo minore, quindi se non riusciamo tanto a fare un paragone anche di prezzo, il sciroppo agave può costare dalle 10 alle 12 euro al litro, però, tipo, 75 grammi di agave, di sciroppo agave, praticamente dolcificano come 100 grammi di zucchero, quindi non è facile fare una proporzione alla pari, sicuramente è più caro, anche del, per esempio, dell'asfaltame, che sappiamo che è stato utilizzato per anni nelle diete, ma che tanto bene poi non fa, e anche dal punto di vista delle calorie, ne apporta circa 60 calorie per 100 grammi, 60 calorie per 100 grammi sarebbero praticamente un cucchiaio sulle 16 calorie, scusate, e praticamente le stesse calorie del comune zucchero, insomma, per intenderci, cosa, perché, allora, facciamo così, parliamo dei breggi, poi parliamo dei difetti, allora, io me ne sono segnati alcuni, ve li leggo, insomma, adesso non sono stata a dilungarmi, da dove si estrae lo sciroppo d'agave, come si estrae, dove, da cosa, detto proprio in due parole, si estrae da una pianta grassa di origine messicana, l'agave tequiliana Weber, e per estrarlo servono questi, quasi tutti utilizzano queste alte temperature che lo rendono, che lo privano, insomma, di minerali e vitamine, e so che ci sono in commercio, però, dei, io non li ho ancora trovati, però, dei prodotti che sono stati a basse temperature e che non subiscono delle raffinazioni industriali, quindi, se vi interessa e se li troverò, o se le avete già trovate voi, ve lo volete far sapere, postatemelo qua sotto, scrivetemi anche ragazze se lo utilizzate, per cosa, se vi trovate bene, se avete delle informazioni diverse della mia, io vi dico ragazze, hai giorni e giovani che leggo su questo argomento, quindi mi sento di fare questo video, proprio perché mi sono documentata alla grande, però, sono qua sotto, nel box, se vi sia piaciuto nei commenti, scrivete pure tutto quello che vi sentite di dire, allora, lo sciroppo da agave contiene il 90% comunque di fruttosio e ha un basso indice glicemico, pertanto viene utilizzato come, forse, come un dolcificante naturale anche dai diabetici, anche se comunque anche loro non ne devono ad usare, è un sciroppo ricco di calcio, quindi consigliato per esempio anche alle donne meno pausa, è ricco di calcio, di sodio e di carboidrati, il carboidrato contenuto in questo sciroppo è l'inulina, scusate, che è una sostanza che praticamente ha il potere di abbassare il coristerolo, quindi vediamo che ha tante proprietà benefiche, adesso comunque voglio leggervele di preciso, perché su tutte memorie non le ricordo e comunque così non me ne scappa neanche una, me le sono sognate qui sotto, è un antitumorale, sembra che l'agave sia in grado di allontanare l'insulgenza del cancro, aiuta la dieta, si tratta di un succo molto denso che favorisce il senso di stazietà ed è quindi indicato in caso di dieta, anche perché apporta poche calorie, anche se abbiamo visto che in realtà le calorie sono alla pari, pari del tè di peso, sono alla pari dello zucchero, anche se come vi dicevo ha un alto potere di glucolato e quindi ne viene usato meno, quindi in effetti sì in un certo senso meno calorie da quel punto di vista lì, e poi si è usato come dolcificante senza che altra il sapore delle pietanze delle bevande, ecco questo mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio, è un dolcificante naturale che ha questa particolarità di non capiare il sapore delle pietanze nonostante sia molto dolce, aiuta il sistema immunitario, ha delle alte percentuali di vitamine che rafforzano il sistema immunitario, naturalmente sempre si viene estratto come abbiamo detto in un certo modo, è un nemico dell'osteoporosi, con quanto ha una grande quantità di calcio, aiuta a combattere, a rafforzare le ossa nelle donne in menopausa, è un amico dell'intestino perché l'inulina, come vi avevo detto, che è il principale carboidrato presente nello sciroppo, fa bene l'estestino, lo protegge facilitando la digestione, aumentando la flora batterica, e per quanto riguarda il diabete, è adeguato per i malati di diabete perché sono un indice glicemico e basso, se ricordo bene è indicato anche sulla confezione, dice praticamente che, mi sembra di aver letto qualcosa in merito, ha un indice glicemico di circa 21, saccarosi circa 60, anti-glicloso 100. Questo sciroppo può essere utilizzato per insaporire le bevande calde e fredde, è molto solubile e può essere utilizzato anche per la torta, pasticcini, biscotti e prodotti dietetici, per la corte non ha sapore, dolcifica molto, quindi meglio ridurre le dosi e se si impastra, decide di utilizzarlo proprio al posto dello zucchero. Questo quindi per sapere che cos'è, dove lo si trova, quanto costa, quanto rende tra virgolette in dolcezza e tutto e quali sono le sue proprietà. Ci sono però anche delle controindicazioni e con questo per chiudere il cerchio, come vi dicevo, questa pianta deve subire dei trattamenti chimici ad alte temperature che va a danneggiare le vitamine e tutti i principi positivi che ha questa pianta, per questo che lascia molti dubbi ai nutrizionisti questo sciroppo. Comunque ricordiamo che tra le controindicazioni mi sento di dirvi di assumerlo con moderazione, perché comunque contiene molto fruttosio e un consumo eccessivo di fruttosio, sappiamo che contribuisce alla formazione di acido urico, ci sono persone che hanno acido urico alto e devono attuare certe cose nella dieta, comunque questo sciroppo contiene quantità di fruttosio e quindi causa appunto la formazione di molto acido urico che porta a altri livelli di triglicelidi e di coristerolo, quindi da questo punto di vista è una cosa negativa, è visto di mal occhio, è visto di cattivo occhio proprio perché per il metodo industriale con cui viene prodotto, più che altro per il processo produttivo che uccide diciamo le sue proprietà benefiche. Infatti io mi sono stampata questo pezzo di, posso dire, questa cosa da internet dove parla un dottore dell'American College of Nutrition dove dice praticamente, ve lo leggo testualmente, questo dolcificante è quasi tutto fruttosio, zucchero altamente trasformato e poi aggiunge un altro medico il dottore Mercola, la maggior parte degli sciroppi d'agave hanno un maggior contenuto di fruttosio di qualsiasi dolcificante commerciale, dal 70 al 90%, la seconda della marca, percentuale che di gran lunga e superiore è quello dello sciroppo di fruttosio stesso che in media è del 55%, poi dice che altro particolare da non sottovalutare è il fatto che per realizzare lo sciroppo si utilizzano altre temperature e questo fa sì che in tutti i sali minerali e le vitamine presenti nella pianta vanno distrutte creando quindi un prodotto finale privo di nutrimenti, l'ho già detto 500 volte, il succo contenuto nell'amido della radice del bulbo di agave sarebbe infatti sottoposto a processi chimici per fare in modo che il prodotto possa essere utilizzato come dolcificante e conservato a lungo, perché c'è anche il problema della conservazione e da qui mi viene in mente anche la questione omelio di parma, che ne parleremo presto. Questi processi cambiano drasticamente gli zuccheri naturalmente presenti nella pianta, trasformandoli e concentrandoli, il che non può essere certo considerato naturale né tantomeno benefico e salutare. Comunque ragazze in linea di massima io vi ho detto tutto nel senso che abbiamo visto che cos'è, da cosa viene estratto, dove si compra, quanto costa, lo abbiamo paragonato a cose sicuramente più salutari, come può essere lo stevia, lo zucchero d'acero, il malto di riso, il malto d'orvo, il miele e dall'altro canto lo abbiamo però anche paragonato a cose più dannose, come lo zucchero bianco e anche lo zucchero di canna poi alla fine, se non si compra quello integrale. Quindi io ragazze vi sento di dirvi, se conoscete delle ditte che producono sciroppo gagave con estratto in modo naturale, insomma che non perda queste proprietà che vi ho detto, passatemelo qui sotto e fatemi sapere voi che cosa utilizzate. Io questo, come vi dicevo, l'ho portato solo per fare una ricetta, perché io nella realtà non utilizzo mai lo zucchero bianco, uso lo zucchero di canna integrale, grezzo integrale, tutti i giorni, per fare qualsiasi cosa, ho in caso un pacchettino di zucchero, in caso che, sai, viene bene l'ospite che non riesce quello di canna, bisogna avere in caso anche l'altro, però io non lo utilizzo mai, è rarissimo, proprio è raro, e mi sono abituata a quest'altro che è molto più salutare, molti anche, e comunque, ragazze, facciamo girare le informazioni possibili, anche perché ci sono persone che prendono anche al bar, vedo che molti hanno abbandonato proprio lo zucchero, prendono lo zucchero di canna, ma non prendono quello grezzo, quindi non è che poi ci sia tanta differenza da quello che ho capito. Comunque, magari mi documenterò bene anche su questo e vi farò sapere. Comunque, vi dicevo, abbiamo guardato tutte queste cose, le proprietà, le proprietà positive, abbiamo visto le controindicazioni, che comunque, a parte la quantità di contenere del fruttosio, che stimola acido urico, degli geli, degli elevati livelli di colesterolo, alla fine, diciamo che, è più che altro l'estazione che fa perdere tutte queste cose positive che ha questa pianta, e quindi, se riusciamo a trovare qualcosa in un altro modo, magari, sarà un prodotto positivo. Comunque, come vi dicevo, fate le vostre prestazioni, spero che i vostri commenti siano tantissimi, e ci vediamo con i prossimi video, sempre su prodotti naturali. Nel frattempo, vi volevo aggiornare sulla mia situazione, la panciotta è ancora qui, è ancora qui, è cresciuta un sacco, mancano dieci giorni, e ci vediamo chissà, forse presto, forse no, chissà, ciao! Ragazzi, dimenticavo di dirvi una cosa, questo sciroppo, lo trovate anche sotto forma di polvere, in tisane e tinture, ha proprietà digestive, toniche, purgative, diuretiche, e l'uso può essere sia esterno che interno, ha proprietà depurative per il fegato e curative per l'otorrea, che è l'inflammazione delle orecchie, e anche per la blefarite, che è l'inflammazione delle palpebre, si può utilizzare anche per le pelle piaghe, le ulcere della pelle, per le quali possono formarsi e farsi degli impacchi, a base di agave in polvere, che potete sciogliere in acqua. Ultima, ma non meno importante, la pianta viene utilizzata anche per la produzione della celebre tequila, infatti vi ricordo che la pianta si chiama Agave Tequillianave, questo giusto per finire il discorso, ciao a tutte!